Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di pasta, penne Olio d'oliva 3 spicchi d'aglio Peperoncino 6 acciughe Prezzemolo Una scatoletta ai pelati o polpa di pomodoro e parmigiano grattugiato Preparazione In una padella a fuoco dolce far sciogliere in olio di oliva 3 spicchi d'aglio tritati fini Aggiungere peperoncino a piacere 6 acciughe tagliuzzate e un po' di prezzemolo tritato Deve assumere una consistenza cremosa, aiutarsi schiacciando il composto con una forchetta Aggiungere una scatoletta di pelati schiacciandoli un po' oppure della polpa di pomodoro Far cuocere per bene mescolando di tanto in tanto e a fine cottura unire ancora un filo d'olio Mettere poi un pugno di prezzemolo tritato Condire la pasta saltandola in questo sugo aggiungendo un'abbondante manciata di parmigiano Volendo può essere accompagnata con del vino rosso robusto Il piatto è pronto Buon appetito